Preoccupati dai tentativi di alcune forze politiche presenti nelle commissioni affari costituzionali, bilancio e tesoro della Camera dei Deputati, esprimono una forte apprezzione in merito alla conversione in legge del DL 1000 proroghe, nella parte del testo che prevede la sospensione fino al 30 giugno delle esecuzioni degli sfratti e delle procedure immobiliari, misura che in questi giorni è oggetto di attacchi da parte di chi vorrebbe eliminarla dal provvedimento. Per quanto ci riguarda, il brocco degli sfratti è irrinunciabile per impedire che si mettano in mezzo alla strada migliaia di famiglie senza un'alternativa allogiativa. Ad affermarlo sono i sindacati degli inquilini CISL e CGL Puglia. Per questo i sindacati degli inquilini si mobilitano il prossimo 9 febbraio con presidio a Piazza Montecitorio per impedire questo scempio verso famiglie fragili già colpite dalla crisi e dal Covid. In Puglia, intanto, i segretari Paolo Cicerone e Nicola Zambetti chiedono alla nuova assessora regionale alle politiche abitative della regione Puglia, Anna Maria Maraschio, un incontro urgente per concordare e coordinare iniziative idonee a contrastare il grave pericolo abitativo che si è creato in seguito all'emergenza sanitaria, che ha impedito a migliaia di famiglie di produrre il reddito necessario al pagamento dei canoni di locazione e che metterebbe a rischio oltre 40.000 nuclei familiari pugliesi che rimarrebbero senza un tetto.